Aaaaah! Aaaaah! Ragio polveronche! Aaaaahhhh! Ti serviva una mano! Ti portavo a chiedere! Aaaaaahhh! Ahaha! Oh! Oh! Aaaaah! Hehehehe! Uh, aaaah! Avvivo! Come noi! Ma non è come quelli della nostra giostra, li fanno di taglia diverse. Ma che fai, mi tre un coniglio. Forte a me, simpatico. Oh, qual è che è il panetto tuo? Che avete lo stesso stile. Grande spirito, dice, grosso branco di bufali essere nei palazzi. Deve essere assolutamente cambiato. Come fai a saperlo? Dov'è il libretto di istruzioni? Lascia perdere, ho capito tutto. Oh, ma come che figlia cantava Ninna-Nan? Hai visto mai che si tranquillizza? E se poi le interessa, abbiamo questo modello un po' più sbarazzino. Ma, sono indeciso. Salpi e salavandre, erano loro. Non ci posso credere. Ma mi scusi, signore, ha visto anche lei quello che ho visto io? Non saprei. Accidenta, ciò sto parlando di quelle ragazze che sono appena passate. Sono loro. Le nuove reclute della scuola di Alfea. Sono arrivate proprio oggi per il nuovo corso. Ehi, figlia, figlia! Torni subito qui! Devo subito avvertire le mie padrone, anche loro sono a Magix. E stavolta potrebbero anche sbrogliarsela da sole. Pronto? No, inutile orco, per quale motivo ci disturbi? La fata e le sue amiche sono qui, signora. Le ho viste passare adesso, stanno andando verso il centro. Ne sei certo? Ma questo è un colpo di fortuna inatteso. Lo centro di stella deve essere nostro. Ora vi è riuscito, vi è ripallito l'altra volta e si sbaglierà di nuovo. Un paio di occhiali non te li toglierà nessuno. Orco inutile e incapace, hai capito? Un orco con gli occhiali? No, fidatevi di me, signora!